Una telecamera rivelerà e fotograferà in tempo reale i mezzi in doppia file, quelli senza revisione e assicurazione. Tutto questo accadrà nel comune di Masca Lucia tra un paio di settimane. Anche il comune Etneo sarà dotato del nuovo sistema Street Control, che permetterà alla Polizia Municipale di avere un maggiore controllo del territorio. Attenti dunque a lasciare la macchina ad esempio in doppia fila sul marciapiedo e sulle strisce. I vigili infatti in tutti i quartieri e tutti i giorni, sia di mattina che di pomeriggio, gireranno con una telecamera scattando delle foto ai veicoli presenti, regolari e non. Dal classico blocchetto e penna si passerà dunque al tablet, che elaborerà le foto scattate individuando i trasgressori e compilando forme e multe. Lo Street Control inoltre segnalerà anche chi viaggia a bordo di autovetture senza l'assicurazione e la revisione, oltre che controllare la velocità. Addio quindi al classico fischietto che consentiva a tanti di spostare veicoli. L'unica parola d'ordine sarà rispettare le regole stradali.